Ciao ragazzi, io sono Antonio e oggi video unboxing con chicca animali fantastici crimini di Grindelwald ma prima di cominciare ad aprire i nostri pacchi vi ricordo che su Pampling trovate tantissime magliette a tema nerd di tutti i fandom che potrete avere con uno sconto del 15% inserendo il codice sconto 7POTTER potete utilizzarlo tutte le volte che vorrete senza nessun limite da qui all'eternità ma detto questo cominciamo subito con l'aprire questo bel pacco che mi arriva dall'ufficio stampa di Warner quindi apriamo immediatamente questa busta e scopriamo cosa c'è all'interno le uscite del mese di ottobre wow ragazzi, ho già visto una cosa che vi farà assolutamente impazzire e che questa volta mi costringerà a fare quello che non ho mai fatto fino ad oggi ragazzi, Warner mi ha inviato il cofanetto in versione cinematografica della trilogia del Lobbit e la trilogia del Signore degli Anelli quindi ragazzi, a questo punto, in questo cofanetto abbiamo tutti e sei i film che mi avete consigliato centinaia, migliaia di volte e che io non ho mai visto e quindi a questo punto credo proprio che mi spetti fare una bella maratona ma adesso la domanda mi sorge spontanea guardo prima il Signore degli Anelli o prima lo Hobbit scatenatevi nei commenti e convincetemi di una o dell'altra cosa ma io direi di andare a vedere anche com'è all'interno ecco qui abbiamo questo astuccio in cartoncino e all'interno una Amarei con le pagine davvero molto molto elegante, mi piace molto molto bella all'interno ci sono tutti i film del Lobbit e del Signore degli Anelli davvero molto ben realizzata, mi piacciono un sacco i dischi e quindi non vedo l'ora di cominciare finalmente a guardare questa saga quindi aspetto i vostri consigli ma non è finita qui perché all'interno della busta abbiamo ancora un altro po' di cose abbiamo un film che io non ho effettivamente visto ma che volevo vedere anche per esorcizzare la mia paura dei clown ragazzi si tratta del cofanetto speciale di IT in Blu-ray con in allegato il portachiavi Funko Pop proprio di Pennywise davvero molto molto bello mi piace un sacco quest'idea di Funko che si sta intrufolando un po' in tutti i film, tutti i Blu-ray, in tantissime confezioni speciali troviamo dei Funko Pop di diverse misure e ragazzi IT devo guardarlo io ho visto la prima miniserie, quella di tantissimi anni fa e sono rimasto praticamente traumatizzato non ho dormito per anni, ho una paura incontrollata dei clown proprio mi mettono ansia, non riescono neanche ad andare al circo e quindi dovrò organizzare una serata per guardare questo film con gli amici perché da solo non posso proprio farcela ma ragazzi, piccola chicca voi sapevate che IT e il suo pagliaccio, il suo Pennywise sono stati di ispirazione per J.K. Rowling che proprio da questo personaggio ha tratto la figura del molliccio l'ha dichiarato lei stessa in diverse interviste e effettivamente, fermandoci un attimo a riflettere sulla cosa, IT è una creatura che assume le sembianze delle vostre paure ed è assolutamente la stessa cosa che fa un molliccio quindi sono più o meno la stessa cosa fatemi sapere sotto nei commenti se lo sapevate o se vi ho regalato questa perla di saggezza ma detto questo, andiamo ancora avanti perché non è finita credo siano le uscite più belle dell'ultimo periodo di Warner mi è arrivato anche questo fantastico cofanetto a tema DC con Wonder Woman, con Justice League e Batman contro Superman io non ho visto Wonder Woman quindi è l'occasione giusta per andarlo a recuperare e mi piacciono tantissimo questi cofanetti che racchiudono più film e che ti permettono appunto di andare a recuperare quelle due o tre visioni che magari ti sei perso strada facendo o perché non siamo riusciti ad andare al cinema per un motivo o per un altro ringrazio tantissimo Warner per questo unboxing super super bello con queste uscite di ottobre davvero fantastiche e naturalmente trovate tutti i link sotto in info box adesso passiamo ad un altro pacco questo qui che mi arriva da Fazzi Fazzi che mi ha spedito un altro libro un altro libro molto molto interessante che volevo segnalarvi e si tratta di Io odio internet un romanzo utile di Jared Kobeck sicuramente l'avrò pronunciato male io ho avuto già il privilegio di leggerlo in anticipo Fazzi mi ha passato gentilmente il formato ebook del libro ed è davvero super divertente, super bello anche questo qui fa parte della collana Le Meraviglie ve ne parlavo già nel video precedente a me piacciono tantissimo i libri di questa collana perché sono tutti umoristici e mi fanno davvero passare il tempo velocemente e in piena allegria di cosa parla questo volume? non voglio spoilerarvi troppo ma parla di Edeline una fumettista che è ancora famosa ai giorni nostri ma è stata molto più famosa negli anni 90 dalle sue opere è stato anche tratto un film per il cinema e quindi lei ogni tanto va a fare delle conferenze a parlare alle università e ragazzi perché si chiama Io odio internet? perché questo volume ci fa riflettere appunto su quello che comporta l'utilizzo di internet perché Edeline un giorno si ritrova ad una conferenza all'università e fa un gravissimo errore dice quello che pensa ma non si accorge che c'è uno studente che la sta riprendendo con lo smartphone questo video finisce online e quindi ragazzi che ve lo dico a fare diventa obiettivo degli haters e naturalmente questo video viene ripreso e ricondiviso su Facebook, su Instagram, su Twitter e questa lettura ci fa riflettere su come internet sia un mezzo potentissimo uno strumento fantastico ma di come la gente lo utilizzi male e spesso e volentieri per insultare altre persone e alla fine tutto questo odio che viene riversato e alimentato da internet non fa che ingrassare le tasche di Zuckerberg ma anche di Google e di tutte queste grandi multinazionali che fondamentalmente guadagnano dalla pubblicità che viene accompagnata da questi video che diventano vitali è davvero molto molto interessante io ve lo consiglio trovate il link in infobox passiamo adesso al penultimo pacco che in realtà ho già aperto è pesantissimo e mi arriva da Thunwe in questo caso abbiamo la bellezza di tre volumi che voglio assolutamente segnalarvi e che ho già aperto perché volevo leggerli ecco qua cominciamo da questo che è Becker, il viaggio del fornaio in questo caso si tratta di una graphic novel muta si tratta di un silent book è davvero bellissimo ragazzi davvero molto molto bello è realizzato da Chen Wencheng e devo dirvi che come al solito i silent book si rivelano sempre una sorpresa perché al primo sguardo si potrebbe dire vabbè non ci sono testi io lo sfoglio in tre minuti l'ho finito invece no bisogna soffermarsi su ogni singola tavola e assaporare vignetta per vignetta perché è davvero un viaggio fantastico si tratta di un viaggio nella memoria nei ricordi dell'autore ed è rappresentato da questo piccolo fornaio da questo ragazzo che fa il fornaio e che possiede un piccolo pesce rosso diciamo così è un pesce un po' particolare che quando mangia una piccola mollica di pane il pane speciale che viene realizzato proprio da questo fornaio diventa enorme diventa una sorta di dirigibile dove all'interno ci sono anche delle stanze qui possiamo vedere delle finestre delle vetrate e tramite questo pesce il nostro fornaio va alla scoperta di altri mondi e va anche a riscoprire il suo passato infatti torna nei luoghi dell'infanzia va dal nonno ricorda il furgoncino del fornaio che quando lui era ragazzino si fermava davanti casa e tutti i bambini correvano per assaporare questo odore questo aroma che si diffondeva in tutto il quartiere ma ad esempio va anche a ritrovare un vecchio compagno di quando era davvero piccolo e riscopre che comunque queste amicizie nonostante passi il tempo e non ci si riveda più pertanto tantissimo tempo restano comunque indissolubili si resta comunque legati in qualche modo ammetto che resto sempre stupito dalla bellezza dei silent book ma non finisce qui perché abbiamo anche Gauguin di Fabrizio Dori Gauguin è stato un artista molto molto particolare è stato un marinaio un viaggiatore un esploratore un amante un padre ha davvero vissuto tantissime vite e in quest'opera qui Fabrizio Dori si sofferma sulla parte finale della sua vita e Gauguin è messo faccia a faccia con lo spirito della morte che cerca di interrogarlo e cerca di capire chi sia effettivamente quest'uomo Gauguin cerca di farlo mettere a nudo a me piace tanto Gauguin soprattutto perché ha avuto molto a che fare con la vita di Van Gogh Van Gogh si era innamorato di Gauguin hanno vissuto assieme e poi tutto è culminato con il taglio dell'orecchio di Vincent che poi consegnò ad una prostituta quindi sono abbastanza legato anche alla figura di Gauguin l'ho studiata all'università e mi piace tantissimo che molte delle tavole siano appunto anche disegnate e colorate in stile Gauguin vanno proprio a riprendere la pennellata di Gauguin davvero un'opera molto molto bella guardate quanto è bella la copertina si tratta di un cartonato e ve lo consiglio se siete amanti dell'arte e poi concludiamo col terzo volume che invece si intitola School di Giovanni Nardone e Marco Nucci mi piace tantissimo il titolo che hanno utilizzato credo sia un doppio senso spero di non sbagliare perché School scritto così S-K-U-L-L se non ricordo male significa Teschio ma School ricorda anche il suono della parola scuola in inglese proprio perché questa graphic novel cartonata davvero bellissima comunque parliamo anche della fattura che viene un po' trascurata di solito e invece è molto molto importante in queste opere che è davvero bellissima ma detto ciò ragazzi School parla del massacro che avvenne in Connecticut del 2012 nella Sandy Hook School si tratta di un ragazzo di 20 anni che prima uccise la madre poi si recò presso questa scuola e massacrò oltre 20 persone e in questo volume si va a raccontare la storia di una maestra che riuscì grazie al suo coraggio a salvare la vita di nove bambini di nove studenti è una storia che naturalmente va raccontata non va dimenticata si tratta del terzo attentato per importanza in una scuola negli Stati Uniti e naturalmente il tema delle armi è sempre centrale in questo caso perché come sappiamo negli Stati Uniti è molto semplice procurarsi un'arma e quindi il dibattito è sempre al centro dell'attenzione e ragazzi anche in questo caso l'ho già letta mi è piaciuta davvero tantissimo e ve la straconsiglio naturalmente la consiglio ad un pubblico di lettori magari un pochino più avanti con l'età magari diciamo secondo me dai 14 anni in su ecco diciamo così non è proprio per bambini in fasce ma detto questo ragazzi andiamo avanti con l'ultimo pacco naturalmente trovate le graphic novel linkate sotto in info box apriamo quest'ultimo pacco che invece è la chicca a tema animali fantastici arriva dagli Stati Uniti l'ho ordinato su Amazon perché in Italia è un po' difficile da trovare devo ammettere forse l'ho visto soltanto da GameStop ma era in pessime condizioni e si tratta del Funko Pop di animali fantastici questa volta di una nuova creatura che è il Matagot ragazzi non sappiamo quasi nulla di questa creatura l'abbiamo solamente vista nel trailer di animali fantastici sembra un po' una pantera ma anche un gattone con degli occhi giganti e in questo caso il Funko Pop è Glows in the Dark è il primo Glows in the Dark della serie di animali fantastici ricordiamo che sono arrivati due Glows in the Dark per il San Diego Comic Con invece di Harry Potter Nick quasi senza testa è Mirtilla malcontenta mi piace davvero un sacco è molto strano molto felino tantissimo ma vorrei proprio saperne di più e non vedo l'ora di vederlo al cinema l'unica cosa che abbiamo intuito è che si tratta di una creatura presente nel Ministero della Magia Francese quindi ne riparleremo sicuramente più avanti fatemi sapere se l'avete preso se l'avete recuperato e dove l'avete trovato perché ripeto è abbastanza complicato trovarlo ragazzi detto questo spero che questo piccolo video unboxing vi sia piaciuto naturalmente noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video potteriano e naturalmente tanti altri unboxing e ragazzi mi raccomando come al solito non trascurate l'info box ciao 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 ciao